Ciao a tutti, il mio nome è Marco Trombetti e sono il fondatore di MemoPal. Come molti di voi, ho archiviato le mie fotografie e i miei preziosi documenti su un computer, i cui componenti sono naturalmente destinati a rompersi entro pochi anni, come succederà tra poco. Infatti, ho archiviato i miei documenti su questo CD-ROM e, immaginate un po', li ho persi. Ho archiviato le mie fotografie su una pennetta USB esattamente come questa e le ho perse. Ho archiviato più seriamente tutto il mio lavoro in un hard disk come questo e ho perso i dati un'altra volta. Per questo abbiamo inventato MemoPal, un software che sincronizza le cartelle da me selezionate con un archivio online. Non importa cosa succederà al mio computer, potrà essere rubato o un furto, oppure diventare cibo per alieni quando ci invaderanno. Saprò sempre dove sono i miei file. Siamo felici di rappresentare un'Italia che innova a Shanghai e se volete provare MemoPal potete scaricarne una prova gratuita direttamente dal nostro sito.